Ecco, alla bellissima Simona gli abbiamo realizzato un colore molto naturale, lei aveva il problema del rosso, gli abbiamo realizzato una base sua naturale che annullava proprio i riflessi rossi, con un piccolo dettaglio qui per creare un po' l'effetto proprio disegnato su di lei, per valorizzare proprio il suo carattere. Cosa ne pensi Simona? Sono felice e contenta, molto. Grazie.